Un ulteriore sgarbo istituzionale. È così che stamattina i gruppi consigliari di centrodestra continuano nel proprio nuovo durissimo attacco nei confronti del sindaco parlando di un'altra bugia targata amministrazione Valenti. Sullo sfondo stavolta c'è una questione che torna alla ribalta tutte le volte che si riunisce il consiglio comunale. Stiamo parlando della vicenda riguardante la mancata previsione di un contributo economico da parte del comune che garantisca la presenza delle telecamere all'interno dell'aula Falcone a Corsellino al fine della trasmissione indiretta dei lavori consigliari. Stando a quanto si apprende oggi per la seduta di domani sera non è previsto che il comune di Sciacca commissioni il predetto servizio. I consiglieri del centrodestra fanno notare che da mesi sottopongono all'attenzione dell'amministrazione richieste per la diretta televisiva attraverso le emittenti locali di Sciacca al fine si legge oggi in una nota di garantire ai nostri concittadini che lo hanno ampiamente sollecitato la possibilità di assistere all'attività politica locale. Sottolineano ancora agli esponenti dell'opposizione che il sindaco Francesca Valente aveva ampiamente garantito che soltanto dopo l'approvazione del bilancio di previsione del 2018 si sarebbe potuta garantire la presenza in aula delle telecamere. Purtuttavia malgrado il bilancio sia stato approvato ancora una volta, dicono i consiglieri del centrodestra, è stato opposto un chiaro diniego alla richiesta di trasmissione televisiva in diretta dei lavori consigliari. Parlano così i rappresentanti del centrodestra di una cosa mai accaduta in passato, chiedono a gran voce i consiglieri di maggioranza di contribuire personalmente al fine di permettere la diretta dei lavori d'aula ma qualora la maggioranza così come in passato non contribuirà, noi, scrivono quelli del centrodestra, saremo pronti a farci carico a nostre spese ad assicurare la presenza della tv e la conseguente diretta televisiva dall'aula Falcone Borsellino. La questione assume rilievo politico se si considera che l'opposizione fa notare che purtroppo ci si trova nuovamente di fronte a quella che viene definita una palese nuova bugia. Centrodestra che non esita ad attaccare frontalmente lo stesso presidente del consiglio comunale Pasquale Montalbano, accusato di scarsa autorevolezza, visto che non è stato in grado di trovare una soluzione ad una problematica che va avanti da mesi. Il centrodestra dunque rinnova ancora una volta una richiesta ufficiale all'amministrazione comunale. Vogliamo la tv in aula, scrivono, ma in pieno spirito di responsabilità siamo pronti a fare la nostra parte per far sì che si riduca sempre più la distanza tra il consiglio comunale e la città di Sciacca. Ricordano infine quelli dell'opposizione che ad oggi la presenza della tv in aula in 15 mesi di consigliatura è stata garantita una sola volta, cioè attraverso la contribuzione dell'opposizione. Ci si riferisce alla recente seduta per l'approvazione del bilancio di previsione e quando il centrodestra sostiene che ad assumersi l'onere di quel servizio è stata l'opposizione, per dovere di cronaca è corretto precisare da parte nostra che a farlo sono stati i consiglieri di tutti i raggruppamenti di minoranza, ossia Progetto Sciacca, Alternativa Popolare, Indipendenti, Sciacca al Centro, Movimento 5 Stelle, Udc e Mizzica. La seduta di domani è quella dedicata all'approvazione del conto consuntivo, licenziato ieri mattina col parere contrario della Commissione Bilancio e Finanze. È evidente che in apertura dei lavori il sindaco Valenti farà comunicazione all'aula sulle modifiche apportate alla composizione della sua giunta, ne seguiranno interventi dei singoli consiglieri, in particolare di un esponente per ciascun gruppo. È prevista per mercoledì 10 ottobre la seduta che sarà incentrata esclusivamente sul dibattito politico, in quella circostanza avranno diritto di parola tutti i consiglieri che ne faranno richiesta.